Amici dei Libaschi, siamo qui con Gigi Dordei, fresco vincitore, complimenti della seconda semifinale della Final Four. Forse ci avevi pensato, però vincere così forse non ci credevi nemmeno tu. Ma io speravo di vincere, punto. Poi la prestazione è stata veramente da grande squadra, ma detto questo, chiuso a parentesi, e dobbiamo già iniziare a pensare a domani, perché abbiamo anche 24 ore per recuperare tutte le energie. Ecco, tornando, restando un secondo però sulla partita, era nel piano partita partire forte e poi cercare di condurre, o vi siete ritrovati davanti anche 17 punti senza averlo preparato? Allora, noi avevamo preparato col coach qualcosa di diverso, perché aveva messo Dada in quittetto al posto di Garro, e avevamo iniziato subito con la zona per limitare il loro pick and roll. Poi noi siamo stati bravi a eseguire il piano partita, a metterci tanta fisicità e aggressività, il resto è venuto da sempre. Abbiamo detto, americani sugli scudi, anche Pasquale naturalmente, con questa intensità di gioco, anche grazie a questa cornice splendida, domani diventa tutto possibile? Beh, Pistoia è sicuramente una grande squadra e molto fisica, però se noi giochiamo con questa intensità possiamo comunque fare la nostra partita. Non temi che aver raggiunto questo risultato possa psicologicamente far sedere un po' la squadra? Spero di no, lo vedremo domani, però se siamo intelligenti, rimaniamo umili e sappiamo che non abbiamo fatto niente. Grazie, a domani allora. Ciao. Grazie.